Buongiorno a tutti, mi chiamo Karina e sono nata in Russia. Attualmente abito ad Asti e sono una studentessa di scienze biologiche prossima alla laurea. Dal 2017 ho iniziato a fare la fotomodelle indossatrice per alcuni negozi di abbigliamento, invece dal 2019 ho iniziato a collaborare anche con alcuni fotografi professionisti e non per alcuni shooting e con delle agenzie di Torino. Sempre dal 2019 ho iniziato anche a fare la hostess per eventi e la promoter. In specifico ho lavorato come hostess per la fiera Micam, dove ho fatto sia la vostra accoglienza ma anche l'interprete per alcuni clienti russi e inglesi. Ho lavorato anche per la fiera della sicurezza del 2019, sempre a Milano, per alcuni congressi bancari di Banca Generali e di Banca Mediolano, per alcuni convegni come il convegno FCA, il convegno della stampa, i meeting al P-Tour e anche per un convegno medico ad Alessandria. Ho inoltre lavorato anche per un evento della Red Bull e anche con me a hostess per un corso di formazione di ISO IVA della durata di alcuni giorni, dove ho fatto soprattutto sala e segreteria. In tutti questi lavori ho svolto sempre la classica ammazzola di hostess, quindi assistenza sala, segreteria, microfono, accredit, accoglienza e guardaroba e consegna di gadget. Oltre a questi lavori ho svolto anche sempre lavori da hostess per alcune tappe invernali di vari brand di auto come Jeep, Mercedes e sono stata anche hostess per l'RDS per un tour a Prato Nevoso. Oltre a questi lavori da hostess ho svolto anche qualche lavoretto come promoter per supermercati, farmacie e aziende di cosmetica. Ho iniziato a lavorare in questo mondo perché sono molto affascinata dal mondo degli eventi e anche perché mi piace molto stare a contatto con la gente e con le persone. In ambito lavorativo cerco di essere sempre molto flessibile e molto professionale. Se avete bisogno di altre informazioni sono disponibile per un colloquio online, per un colloquio telefonico e spero vivamente di collaborare con voi, con la vostra azienda al più presto.